Il discorso del Presidente è una cosa che avevo preparato prima di Tokyo perché avevo messo giù delle cose nel mio diario e le avevo anche passate a una persona mettendoli quello che mi sarebbe piaciuto dire al Presidente. Non sono stato così abile da avere questa possibilità di parlare con il Presidente alle Olimpiadi e le ragazze mi hanno dato questa possibilità invece dopo l'Europeo e aveva un gusto particolare perché erano cose ancora più sentite perché poi quello che ho detto è poi quello che abbiamo vissuto in questa estate. Stiamo cercando di mettere mano a tutta l'estate e al di là di quello che ho cambiato dopo Tokyo ci sono tanti aspetti che stiamo prendendo in esame per vedere cosa migliorare nella prossima estate. Abbiamo un'estate importante e quindi abbiamo adesso tempo per valutare ma so sempre che aprile arriva in fretta.